buongiorno buongiorno a tutti allora benvenuti vi invito ad iscrivervi a questo canale se non siete già iscritti nel video di stamattina vi avevo detto che quello sarebbe stato lo spazio per le puntatine c'è la prima se mi seguite anche sul mio instagram avrete visto mi è arrivata la maglietta del buon sandro tonali e poi sopra di quella diciamo a destra ci sarà anche quella di martinez quarta quindi pensate che bello pensate che bello che bel scenario diciamo con le mie due puntatine azzeccate di di quest'anno diciamo consigliate ai migliori ds della serie a nei migliori bar di caracas scaricate tutti l'app di one football che vi lascio in descrizione vi da info notizie aggiornamenti sulla serie a sul calcio mercato sulle nazionali mi raccomando scaricatela tutti ve lascio in descrizione e mi sono assegnato quelli che saranno prima di venire al core del video gli appuntamenti caldi in questa settimana e mezzo di assenza di serie a ma in cui io vi ripeto sarò il vostro netflix allora vi ricordo domani sera per abbonati intermedi mio video di catto cucina in cui vi faccio il risotto zucca e salsiccia con riduzione di montasio e sfoglia di parmigiano alta cucina signore e signori con il sottoscritto poi oggi video su come gioca la juve poi ci sarà una arena dei butei col bepi e probabilmente anche con il mio amico gianluca che saluto e allerto ok altri video di catto cucina perché sabato probabilmente ricucinerò ci sarà un pre derby col bruni pre derby anche con il buon fabio bergomi se riesco a combinare altrimenti se non può lui con un altro interiere faremo dei video di gaming vi mostrerò europa universalis con la nuova espansione di emperor l'andiamo a vedere assieme e decidiamo che partita iniziare ci sarà del gaming di pass ci sarà la cat ufologia quindi che cazzo uscite di casa a fare che avete tutto sul mio canale sono io il vostro netflix attenzione attenzione e andiamo tutti a godere insieme di questo grande panorama che il sottoscritto vi offre e della sua offerta video e videoludica allora bene andiamo a parlare del video sulla juve che vi voglio fare perché vedo in queste ore che molti si stanno arrovellando e cervellando su come dovrà giocare la juve con l'acquisto di chiesa con pirlo e via dicendo allora caro maestro pirlo quest'oggi voglio fare io da maestro e voglio dire secondo me come dovresti far giocare la juventus con tutti gli uomini che hai va bene vi spiego sono io il vostro viaggio di scoperta sono io il vostro maestro quest'oggi ok e vi spiego io attenzione attenzione come come dovrà giocare non come potrà come può come no come deve giocare se non e se non gioca così ci incazziamo pur ti fanno fiorentina mi incazzo allora il 4 3 3 mi sa che sale un po in soffitta più che altro perché svalorizza l'ampia scelta difensiva che hai a disposizione con il rientro di chiellini con con la crescita avuta l'anno scorso da parte di demiral e del igt ma soprattutto non hai un vero e proprio centro avanti boa ad oggi avresti potuto farlo con l'arrivo di gioco potrei farlo qualora dovesse arrivare milic ma ad oggi morata non è quel tipo di centravanti e non penso che cristiano ronaldo faccia il centravanti nel 4 3 3 quindi a mio avviso ve lo dico adesso il modulo ideale per questa juventus è il 3 4 1 2 similmente lo stesso di quello che per me sarebbe il modulo ideale della per la fiorentina il 3 4 1 2 e vi spiego anche perché perché sento molti parlare dell'acquisto di chiesa come di un giocatore offensivo che tu devi giostrare insieme a tutti gli altri giocatori offensivi che è sbagliato 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 ecco è questo è questo è questo è questo il vero errore che sta venendo fatto e questo il vero viaggio di scoperta errato che sta venendo fatto perché chiesa mi sono fomentato mi sono perché chiesa cioè bisogna capire che chiesa deve fare il tutta fascia e non ha nessun tipo di problema nel coprire in difesa si sottovalutano le partite che lui ha fatto quest'anno da tutta fascia dove ha fatto quasi meglio in fase di rientro e di copertura rispetto alla fase offensiva io l'anno scorso quando si parlava di chiesa all'inter vi dicevo attenzione perché se conte mette tutta chiesa a tutta fascia questo qui diventa uno dei migliori esterni a tutta fascia del nostro campionato sicuramente ma rischia anche di diventare uno dei migliori esterni a tutta fascia d'europa ok perché chiesa le doti per poter difendere per fare un lavoro di tipo rientrante difensivo le ha poi certo anche quelle offensive a quelle a quelle di rientrare e puntare la porta ma lui le doti per poter difendere secondo me le ha per fare il tutta fascia e attenzione il suo adattarlo a sinistra come giocatore tutta fascia a sinistra ne potrà anche forgiare il carattere ok che è quello che diceva ieri non mi ricordo se ciccio graziani o un altro che diceva che a una era sconcerti che diceva che che la prodo di chiesa alla juve ne forgerà anche il carattere ecco io ci vedo un chiesa titolare esterno sinistro a tutta fascia nel 3412 della juve quello per me deve essere il ruolo che deve giocare chiesa esterno sinistro titolare nel 3412 di pirlo e vi dico di più il ballottaggio tra chiesa e alexandro deve essere il vero viaggio di scoperta del pirlismo ripetete con me il ballottaggio chiesa alexandro deve essere il vero viaggio di scoperta del pirlismo il ballottaggio a sinistra tutta fascia tra chiesa alexandro deve essere il vero viaggio di scoperta del pirlismo e poi vi dico di più c'è un'altra bella cosa per quel che riguarda le fasce che a sinistra c'è una catena chiesa alexandro ma a destra dove ad oggi hai solo quadrato di veramente di ruolo alla bisogna puoi anche far giocare chiesa perché secondo me chiesa può giocare sia a destra che sarebbe naturale che a sinistra ma quindi anche eventualmente a destra se vuoi risparmiare quadrato se vuoi far riposare quadrato se vuoi far rifiattare quadrato quindi chiesa alla juve deve giocare a tutta fascia titolare a sinistra ma anche la bisogna a destra ok danilo lo vedo meglio nei tre dietro secondo me sta meglio come eventualità diciamo nei tre di difesa in caso di emergenza anche lui comunque in fascia non sfigura non sfigurerebbe però ce lo vedo meglio nei tre stante sto schema bernardeschi nel 3412 può fare il vice culuseschi da trequartista o può anche fare il vice di dibala come più seconda punta che il ruolo naturale di bernardeschi è proprio quello di seconda punta alla juve è stato anche rovinato diciamo ha avuto delle difficoltà per me anche per quello perché tatticamente non è mai stato impiegato nel ruolo che lui predilige di più e che è quello suo naturale secondo me che era che era quando è arrivato cioè quello di seconda punta quindi io la juve che andrei a schierare è sostanzialmente questa la difesa tra è solita che può essere bonucci chiellini dell'igt con con al centro bonucci al centro e chiellini e dell'igt ai lati puoi anche fare bonucci al centro dell'igt ed emiral che comunque è un elemento molto valido insomma la difesa non ci sono problemi puoi decidere tu se far giocare i attori se far giocare i due giovani e bonucci lì non c'è problema con danilo come eventuale anche difensore a disposizione centrocampo a quattro con chiesa sulla fascia di sinistra un bel centrocampo muscolare artur e betancur dedito più alla distruzione tra virgolette del gioco avversario che all'impostazione ma poi quando sei in fase di possesso possono anche darti una mano perché hanno nelle corde anche la qualità ok per offendere e a destra ci metti quadrato culuseschi trequartista che per me è uno spreco da lasciare in panchina e attacco a due diballa ronaldo questa è la juve titolare è una juve troppo offensiva a mio avviso no perché il crederlo passa proprio dal misunderstanding su chiesa che viene ancora una volta valutato come un esterno alto come un attaccante addirittura quando lui no bisogna abituarsi a vedere chiesa come nelle ultime due partite in cui ha giocato come un esterno a tutta fascia ok come un esterno a lui lui non devi dire che è un giocatore offensivo paradossalmente molti credono che chiesa sia un giocatore sopravvalutato ma sapete perché si crede questo che chiesa sia sopravvalutato perché in questi ultimi anni purtroppo purtroppo ha sempre giocato in ruoli non sui Sousa se non sbaglio a firenze lo fece esordire come tutta fascia poi arrivarono i pioli arrivarono gli altri allenatori che lo misero esterno alto attaccante lui non è questo non è un attaccante per me non è neanche un esterno alto lui le sue qualità migliori le ha da esterno a tutta fascia ok è stato sopravvalutato perché perché ha giocato in ruoli non suoi quelli di esterno o meglio li può anche fare può anche fare bene anche da 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 attaccante per esempio ha fatto una una partita fantastica quando giocavo a milano l'anno scorso col milan ci sta ma quelli sono sono eccezioni il suo ruolo vero è proprio per me quello di esterno a tutta fascia ok quindi non è vero che che è una formazione sbilanciata perché chiesa sa difendere quadrado comunque indietro ci sa ritornare l'anno scorso ha fatto anche il terzino c'hai artur e betancur che in fase di distruzione possono veramente dire la loro bene c'hai una difesa a tre che comunque è bella mastodontica e può essere forte giocatori offensivi chi hai ai kuluseschi ai di bala ai ronaldo ma ci mancherebbe anche altro cioè sei anche la juve che cosa devi devi giocare con il 5 4 1 con con tutti i difensori no per me la juve la qualità che ha tutti gli elementi di qualità che ha li deve sfruttare li deve mettere in campo bene e vi ripeto la mia formazione titolare della juve è la seguente 3 4 1 2 difesa va benissimo metti chiellini bonucci e del igt se vuoi oppure del igt bonucci ed emiral a te la scelta esterno di sinistra tutta fascia federico chiesa centrocampo artur e betancur esterno destro quadrado trequartista kuluseschi e in attacco di bala e cristiano ronaldo ditemi che oltretutto preservi anche del sarismo perché il fatto di aver fatto giocare di dimostrare che ronaldo e di bala potevano coesistere giocare assieme l'ha dimostrato e implementato sarri e vai a mantenere quel tipo di caratteristica ditemi cosa ne pensate un carissimo saluto